ciao ragazze ciao ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale allora oggi vi propongo un video che è in collaborazione con due amiche fabiana del canale fabiana lizzi e azzurra del canale azutube ovviamente trovate i link dei loro canali giù in infobox e il video che insomma è un video tag ma non un video tag con delle domande bensì dove mostriamo dei prodotti è stato ideato da antonella del canale consigli di antonella 2 ciao anto un bacio lei ha già proposto questo video e noi ci accogliamo piacevolmente perché insomma il tema l'argomento ci piace di cosa si tratta arriva il caldo profumiamoci quindi vi mostriamo tutti i prodotti che insomma andremo ad utilizzare con l'arrivo della stagione calda e qui è già estate inoltrata in sicilia per cui vi mostro quali prodotti vado ad utilizzare ho deciso di puntare per questa stagione che hanno già previsto che sarà una stagione caldissima sulle acque profumate uno perché ne ho comprate tante quindi le voglio consumare due perché mi danno veramente quella sensazione di freschezza istantanea e quindi vi mostro alcune acque profumate che possiedo insomma così vi potete fare un'idea allora bottega verde e quindi acqua profumata alla vaniglia nera cioè che ve lo dico fare il profumo della vaniglia è buonissimo è una vaniglia leggermente speziata che a me piace davvero tanto questo è un formato da 125 ml a spray e non è affatto stucchevole anzi devo dire che ha una persistenza buona la sento durante tutta la giornata ma non mi nausea affatto quindi la prima è questa di bottega verde altra acqua profumata è questa di avon alle rose questo è un formato da 100 ml anche questa a spray e questa la tengo anche nella borsa del mare perché a volte o sotto il sole o sotto l'ombrellone anche se effettivamente non andrebbe spruzzato addosso perché comunque le acque profumate la diciamo si utilizzano principalmente sugli abiti o comunque negli ambienti non vi nasconde che alcune volte sotto il sole o le acque termani o queste insomma che mi ritrovo quella sensazione di freschezza serve mi aiuta e quindi questa la tengo nella borsa del mare un'altra acqua profumata che ho acquistato alla Lidl è quella della Sien e vaniglia e frutti è un'acqua profumata che ho rivalutato perché all'inizio non ero molto convinta infatti nel video che vi ho girato vi dissi che insomma su questa era né il la mia idea però vi devo dire che spruzzala oggi spruzzala domani insomma mi piace l'odore mi piace per cui l'ho rivalutata e quindi questa qua la sto davvero utilizzando e credo che la finirò tutta perché mi sta piacendo Sien quindi Lidl poi invece un profumo di cui vi ho parlato in tantissimi video per cui sì ahimè sarò ripetitiva però è un profumo che grida estate un profumo che grida la insomma la mia terra la sicilia ed è il profumo zagara oltretutto uno dei toilette zagara paradiso quindi un profumo che adora adora che odora di zagara mandarino arancia gel soimino cioè tutto ciò che appunto trovate nelle calde sere d'estate infatti questo lo metto anche nella borsa la sera quando quando esco è veramente una ventata di freschezza paurosa ma ovviamente vado ad utilizzare anche dei deodoranti e la stagione in cui si suda di più e molte volte insomma ad esempio anche i miei figli stesso non hai tu la possibilità nell'immediatezza di fare una doccia allora magari utilizzi il deodorante questo qui borotalco che assorbi sudore assorbe il sudore con microtalco senza alcol dura 48 ore il profumo del borotalco è veramente buono questo qui è a stick che ci dai una passata intanto almeno su un momento tamponi se ahimè c'è il cattivo odore di sudore e ovviamente poi c'è anche questo qui a spray che utilizziamo in tutta la famiglia utilizziamo tutta la famiglia oggi non so parlare ed è quello di Sien quindi preso alla Lidl 48 ore la cosa fondamentale di questo deodorante a parte il profumo che è veramente fresco e buono è che non macchia le maglie nere quindi questo veramente top ultimo non per importanza sempre restando in tema di borotalco a noi piace tanto utilizzare il borotalco in questo caso utilizziamo il felce azzurra in questa meravigliosa e bellissima talchiera che ho acquistato da Acqua e Sapone mi ricordo che era in offerta e che ovviamente ho acquistato solo perché aveva questa come possiamo chiamarla spugnetta più o meno insomma che ci andiamo a tamponare con questa qui bellissimo buonissimo qui c'è il tappetto con l'apertura ovviamente dentro c'è la polvere di borotalco cioè chi non conosce il felce azzurra l'odore del felce azzurra è buonissimo quindi questi sono i miei prodotti che utilizzo per profumarmi con l'arrivo della stagione calda vi raccomando andate a vedere se non l'avete visto innanzitutto il video di Antonella quindi andate a vedere il suo video andate a vedere il video di Fabiana e di azzurra e mi piacerebbe tanto che questo video girasse su youtube per cui io nomino tra virgolette cioè taggo Anna Lisa del mondo di Anna Lisa taggo Alessandra del canale Laziale Serena del canale Sere Channel poi taggo Scarlett81 Rita64 e Anna Maria vi ho nominato tutte ragazze adesso aspettiamo i vostri video bene io vi ringrazio per aver visto il mio intanto e ci vediamo alla prossima ciao ciao